Uccidono e invalidano migliaia di persone ogni anno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non risparmiano nessuna fascia d'età, colpendo soprattutto bambini e anziani. Si tratta degli incidenti domestici. Infortuni più gravi si verificano infatti proprio fra le mura domestiche, facendo più vittime rispetto a quelle degli incidenti stradali e sul posto di lavoro. Un problema serio e tuttavia spesso ignorato, anche perché si verifica nel luogo che ciascuno considera come sicuro per eccellenza, la propria casa appunto. Prevenire questo tipo di incidenti però è possibile. Sono infatti diverse le iniziative che anche a livello istituzionale possono contribuire a evitare certi comportamenti, che svolgiamo quotidianamente e di cui però ignoriamo la pericolosità. Anche in Sicilia, dopo il fenomeno è presente con un'incidenza superiore rispetto alla media nazionale, l'assessoratore regionale alla salute ha predisposto un piano triennale per la prevenzione. Partirà nel 2016 un piano triennale che prevede appunto un processo educativo dei soggetti a rischio, particolarmente a rischio, cioè i bambini, gli adolescenti e gli anziani, che ci consentirà nel tempo di abbattere in maniera significativa la percentuale degli incidenti domestici.